Per Marco Criaco manca solo il nero su bianco, con Marco Corsi invece le distanze si accorce nella trattativa e si può concludere positivamente per i lupi. Idem per ciò che concerne il rinnovo di Ciancio. Quanto a Tedeschi, il cammino in salita e il divorzio, stante il divario tra domande e offerta, allo Stato appare molto probabile, cosenza attiva in questa fase per rassistare il gruppo reduce dalla passata stagione, nell'attesa di guardare fuori i possibili puntelli di mercato. Sul futuro di Ravaglia grava un'incognita che solo le scelte del Parma potranno dirimere, mentre Saracco è una di quelle pratiche sulle quali, anche in questo caso, manca il nero su bianco. Radiomercato vorrebbe il suo Dalizio Bruzio, interessato a Virdis, San Domenico, Boccalon e Cesarini, con lo scopo di mettere a posto l'attacco. Quanto agli altri reparti, l'unico nome che circola è quello di De Rose per la linea mediana. Molto d'altronde, il cosenza del futuro attingerà dalle formazioni giovanili, che continuano a regalare soddisfazioni, sfoggiando ragazzi meritevoli di una chance in prima squadra.